Allora oggi mi hanno portato questo vinnellino piacevole della cantina di Vico Barone, è un gotturnio frizzante, questo è un vino che sono mai trovato nei supermercati, è un vino da 4 ore e mezzo, 5, 2021, cantina di Vico Barone. Quindi, classico, gotturnio, barbara e creatina, profumi, sonno, il naso è piacevole, di buona pulizia, odori di frutta rossa, odori di frutta nera, una leggera sensazione speziata, pepata, di cannella che lega la profondità e poi anche questo leggero odore di rose, ma comunque più centrato sulle sensazioni di frutto. Questi sono quei vini che vi trovate al pomeriggio, così, su una botte, fate merenda con salumi, formaggi e vi divertite. Questa è una versione frizzante, la bolla è sottile, ben intessuta nel vino, piacevole, non trovo nessun problema, nessuna asperità, è un vino da merenda, secondo me, e non solo, se siete a tavola questo qui vi divertite, anche se avete anche un arrostino, qui ci sta, però io lo vedo sempre con pane, salame, formaggi freschi, è chiaramente la buona compagnia. Vini semplici e piacevoli, quindi vino, a mio modo di vedere le cose, ben fatto, lavora tutto sulla piacevolezza, note di frutto, leggera profondità speziata, vi mettete in giardino, giornata come questa, una botte se ce l'avete, buona compagnia, che quelle sono le cose più importanti e vi divertite. Ciao ragazzi!